Musica Rovi, sterpaglie e animali, la ferrovia Fanurbino lasciata all'abbandono e in totale degrado. L'appello di bollegioni a RFI per un piano annuale di pulizia a dare malforte ai residenti di Cucurano preoccupati e stanchi della situazione. Se questa la chiamano pulizia, la RFI, io sono contento per loro. Come pulire in casa e buttare la polvere sotto il letto? A Cagli da maggio tornerà operativo il poliambulatorio dell'ospedale. A Urbino invece al via lo screening audiologico nelle scuole primarie del comune per mitigare l'effetto della perdita dell'udito. Qui Cicifano, una banca solida e ben radicata nel territorio. Ampia partecipazione domenica scorsa all'Assemblea Generale Ordinaria, primiati i soci entrati nella compagine del 1979. Musei, ristoranti, eventi e itinerari. Ecco la nuova app Visit Fano, disponibile su tutti gli smartphone a disposizione di turisti e fanesi. Grigliate e passeggiate, tempo permettendo. Ecco dove andranno i cittadini e i turisti lunedì 1 maggio. C'è pure chi ne approfitta per un po' di riposo. Penso che faremo una grigliata o qualcosa tra amici. Sì, oppure volevamo fare una scampagnata qui nelle campagne oppure nelle montagne. Dobbiamo ancora decidere in realtà, però comunque rimaniamo vicino a Fano. Musei aperti a Mondolfo e Pinacoteca visitabile a Senigallia. Ecco le proposte culturali per il Ponte del 1 maggio. Vanno un appuntamento pensato per vivere il museo come spazio educativo aperto e inclusivo per i bambini. Un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV e benvenuti a Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. In primo piano il degrado e l'erba incolta lungo l'ex ferrovia Fano Urbino con l'appello raccolto da Simona Zonghetti lanciato da Stefano Pollegioni dell'Udc e di un residente di Cucurano. Sentiamo. La linea è totalmente abbandonata e indecorosa. Un bosco di rovi e serpaglia, abitato di animali a ridosso di molte abitazioni e giustamente i cittadini si lamentano. Non guardare la realtà significa peggiorare le cose. Ne ha convinto Stefano Pollegioni dell'Udc Fano intervenuto oggi a Cucurano sull'ex ferrovia Fano Urbino chiusa al traffico ormai 35 anni fa. Pollegioni fino a pochi giorni fa alle sue spalle c'era un vero e proprio bosco. Assolutamente sì. Questo mi viene da intitolarlo non solo via regolo perché finalmente qui abbiamo raggiunto un obiettivo. Io insieme al mio partito all'Udc ci siamo interessati di questa situazione. Sono venuti a pulire anche se hanno scelto il momento sbagliato perché le piante non vanno tagliate di questo periodo e però qualche piccola luce in fondo a un tunnel si è vista. Però, ripeto, non solo via regolo. Esiste tutta la tratta che costeggia poi il centro, il comune del nostro territorio di Fano che è in totale degrado e va pulita. Io vorrei lanciare un appello all'amministratrice delegata di Enteferrovie, la dottoressa Fiorani, perché lei ha risposto no a farci qualcos'altro su questo sedime, parlo della pista ciclabile, utilizzando ormai il solito alibi che questa linea è scritta nel registro governativo delle tratte da riattivare. Però bisogna guardare in faccia la realtà. Questa tratta nel comune di Fano interessa 18 punti di passaggio, un punto è stato addirittura tranciata, io parlo della Statale 16, parlo di via Papiria, parlo di via Canagli Albani e tanti altri punti, quindi è impossibile riattivare la ferrovia in questo sedime attuale. Infatti, ha ricordato Poligioni, lungo la tratta ci sono da ristrutturare 7 gallerie, 25 ponti, ma soprattutto 97 passaggi a livello da superare, dei quali 56 pubblici e 41 su strade private. Mi auguro, aggiunto, che responsabile di RFI, a cui ho più volte chiesto formalmente di intervenire, abbia un programma di intervento che riguardi tutto il tracciato comunale ed attuari prima dell'estate per non correre rischi di incendi. Riguardo invece all'ordinanza per la pulizia della tratta, Poligioni inviera una lettera anche al prefetto di Pesaro Urbino. Siccome non può essere riattivata lungo questo tratto comunale, cade nel degrado e noi ci ritroviamo con vegetazione folta a ridosso delle abitazioni, oltre che poi diventano anche niti di animali, eccetera, eccetera, come lo era stato qui in via Regolo. Quindi chiedo intanto che ci sia un intervento di pulizia e che sia un intervento annuale, messo in un programma proprio annuale, perché voglio ricordare all'ente ferrovia, che è responsabile di tutto questo, che lungo questa tratta ci sono molte abitazioni e ci sono molti cittadini che ci abitano. Edgardo, lei abita qui, che tipo di disagio vivete annualmente? Perfittere il disagio che è lo sporco. Gli animali, gli insetti, non puoi stare in giardino perché le zanzare ti mangiano, oltre a qualcosa di più grosso che io sono stato a punto che ho dovuto ricorrere all'ospedale. Da che cosa si posso chiedere? Un calabrone, un calabrone, che qui venendo di sera sul tramonto, se ci si avvicina la strada, in mezzo là si sente il rondio. Dovevano pulire. Se questa è pulizia, io non lo so. A voi avete le immagini che parlano forse più chiaro. Questa è una bomba, quest'estate è una bomba. Anche perché hanno coperto la canalina di scolo? Ho coperto la canalina di scolo, che adesso grossi temporali non ce ne sono più, ma noi in passato siamo stati allagati, è arrivata l'acqua in casa. Questa la chiamano pulizia, la RFI. Io sono contento per loro. Come pulire in casa e buttare la polvere sotto il letto? E invece di un eventuale ripristino della ferrovia o di un trenino turistico, che cosa ne pensi? A noi interessa solamente che loro la tengano pulita. Poi se la vogliono dare in gestione, vogliono fare una pista ciclabile, vogliono mettere il treno, a noi non ce ne frega niente. L'importante è che la tengano pulita. E poi sulla pulizia non sono arrivati nemmeno nella proprietà loro, perché si sono fermati a scoprire il binario e basta. Là è tutta roba loro. A maggio screening audiologico nelle scuole primarie di Urbino. Gli alunni delle classi prime delle scuole primarie degli istituti comprensivi Pascoli e Volponi e dischieti dell'Istituto Anna Frank verranno sottoposti a visita ed esami da parte degli specialisti e tecnici del reparto di Ottorino Laringoiatria dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Lo screening scolastico rappresenta un'opportunità unica per condurre un test uditivo universale, ha spiegato il direttore della struttura Domenico Durso. I programmi di screening nelle scuole possono essere uno strumento utile per mitigare l'effetto della perdita dell'udito e risultano essenziali per un tempestivo intervento di riparazione delle comuni malattie dell'orecchio. Lo screening, che coinvolgerà circa 100 studenti, verrà effettuato direttamente nelle sedi scolastiche delle giornate di mercoledì 10, martedì 23 e mercoledì 31 maggio. Ed ora ci spostiamo a Cagli perché sempre nel mese di maggio tornerà pienamente operativo il poliambulatorio dell'ospedale con le specializzazioni di diabetologia, oculistica e dipendenze patologiche. Non solo, l'ambulatorio di riabilitazione fisioterapica resterà attivo nonostante il pensionamento del direttore del servizio. Lo ha annunciato il direttore del distretto di Urbino, Romeo Magnoni. E domenica al Teatro della Fortuna di Fano si è svolto l'appuntamento annuale con la nutrita compagine sociale della BCC di Fano, chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio. Per l'occasione sono stati premiati anche i soci dei soci entrati nel 1979, tra loro anche il presidente Romualdo Rondina. Una banca in linea con le aspettative della comunità e del territorio è quanto scaturito lo scorso 23 aprile dall'Assemblea Generale Ordinare dei Socii della Banca di Credito Cooperativo di Fano, che si è riunita al Teatro della Fortuna, un momento centrale per la vita di una banca così radicata in un territorio che si estende da Fano a Senigallia, osservato il presidente BCC Fano, Romualdo Rondina, aprendo l'appuntamento. L'incontro e il confronto con i soci, unitamente alla loro partecipazione attiva alla vita della banca, ci consentono di mantenere un rapporto concreto con la realtà quotidiana, il che è fondamentale per rispondere alle necessità economiche e sociali. Superato il difficile periodo della pandemia, infatti ci si è ritrovati nuovamente nell'incertezza conseguente alla crisi bellica in Ucraina, anni difficilissimi che BCC Fano affrontato e continua ad affrontare con scelte oculate e lungimiranti. Il bilancio chiuso al 31 12 2022 e approvato dall'Assemblea dei Soci conferma che la banca è solida, detto Rondina, capace di sostenere il credito per famiglie e imprese e preparata a creare valore ciò di cui abbiamo più bisogno. Nel corso dell'Assemblea, così come da ordine del giorno, è stato nominato un nuovo componente del CDA, individuato nella figura della dottoressa Simona Romagnoli, giovane imprenditrice alberghiera di Senigallia subentrata al posto di un amministratore uscente. Sono seguiti gli interventi istituzionali come quello del sindaco di Fano Massimo Seri che ha portato il saluto e ringraziamento da parte di tutta l'amministrazione comunale. Anche i numeri possono avere un'anima, detto, e dare le indicazioni per capire un territorio. La BCC Fano è un osservatorio privilegiato della comunità, del suo andamento economico e sociale e voglio rimarcare l'importante ruolo che questa banca ricopre nell'ambito locale grazie a una presenza costante e appassionata a eventi culturali, sociali, sportivi e solidali. Nel corso dell'assemblea è intervenuto anche Giovanni Bonprezzi, direttore della Caritas di Senigallia, ricordando il sostegno che BCC Fano, presente da oltre 20 anni anche nel senigallese, ha messo in campo in occasione della drammatica alluvione del settembre scorso. Nel corso dell'emergenza la Caritas ha erogato 2,3 milioni di euro in offerte, aiutando 120 sfollati, ha consegnato un migliaio di elettrodomestici alle famiglie bisognose e operato nel minor tempo possibile per rispondere alle esigenze della popolazione colpita dal dramma. L'assemblea generale ordinaria è stata poi l'occasione per premiare i soci entrati nel 1979. In particolare sono stati consegnati riconoscimenti ai soci presenti in teatro, Giovanni Fucili e Paolo Bufano. Tra i premiati anche il presidente BCC Fano, Romualdo Rondina, che è stato premiato dal vicepresidente, Luciano Radici, insieme al direttore generale della banca Giacomo Falcioni. Rondina è alla presidenza dal 1993 e nell'arco di 30 anni ha contribuito a far diventare la banca l'istituto di riferimento del territorio. L'amministrazione comunale e l'ufficio di piano regolatori del comune di Fano incontreranno i cittadini per presentare le previsioni del nuovo piano regolatore relative ai quartieri di Centinarola e Rosciano. Tutti coloro che vivono e lavorano in questi due quartieri sono invitati a partecipare all'appuntamento fissato per domani, sabato 29 aprile. Alle 9.30 si terrà una passeggiata urbana con partenza dalla scuola Sanzio di Centinarola in cui i tecnici e gli amministratori illustreranno le previsioni del nuovo PRG soffermandosi sulle trasformazioni che interesseranno i due quartieri. Poi alle 11.00 nella sala parrocchiale della Chiesa Sacro Cuore di Gesù verranno illustrati gli elaborati e verrà aperto il confronto con i cittadini. E nei giorni scorsi il comune ha presentato la nuova applicazione disponibile su tutti i cellulari per scoprire tutte le attrazioni all'interno della città di Fano, dai musei ai ristoranti agli itinerari fino agli eventi a lungo e medio termine. Scopriamo allora di più tutti i dettagli nel prossimo servizio. Oggi siamo in compagnia dell'assessore Etienne Lucarelli e andiamo a presentare la nuova applicazione Visit Fano. Allora, assessore, che cosa ci può dire in merito? Innanzitutto che è uno strumento fortemente voluto dall'amministrazione perché abbiamo bisogno di informare meglio cittadini e visitatori di quali sono le attività e quali sono le bellezze della città che i cittadini e i turisti possono visitare. Uno strumento veramente smart, un'applicazione, anzi in questo momento consiglio a tutti di scaricarlo visto che ormai abbiamo tutti i cellulari, è un'applicazione quindi scaricabile su tutti i cellulari sia che questi siano Android oppure Apple. Allora andiamo nel dettaglio e andiamo a scoprire questa nuova applicazione. Aprendo l'applicazione si trovano tre punti essenziali, tre vetrine, uno che è la vetrina evidenza che dà praticamente tutti gli ultimi eventi a data corta che si tengono nella città, quindi se una persona vuol conoscere le cose che si possono realizzare, gli eventi, le attività che si possono fare nella città, insomma qui si trovano. La seconda sezione che è Round Me ci fa vedere quali sono i monumenti, i luoghi della cultura più interessanti, tra l'altro georeferenziandoli, quindi se una persona si trova in piazza a 20 settembre darà prima i luoghi della cultura più vicini a noi. La cosa più importante è che ci dice quali sono gli orari d'apertura, ci dà dei numeri di telefono possibili per magari contattare qualcuno per avere delle informazioni, ci dà la possibilità di, con un tasto portami, di arrivare direttamente al luogo e per indicarci la strada per arrivare direttamente al museo. L'altra sezione che scopri Fano ci fa scoprire i nostri cluster, come possiamo vivere la città, i progetti che abbiamo presentato in questi tre anni a seguito del piano strategico e quindi cosa possono realizzare le famiglie, cosa si può realizzare all'aperto con Fano Outdoor, il progetto Fano gastronomica e quindi conoscere quali sono i ristoranti dove si possono trovare pesce e frecchio, insomma una serie di progetti per qualificare la città di Fano. A seguito della sezione in evidenza abbiamo un menu molto semplice che ci dà veramente una serie di informazioni più strutturate, ad esempio una mappa, nella mappa si possono vedere tutte le strutture che abbiamo nella nostra città divise per categorie, quindi possiamo scegliere se visionare quali sono i musei, i luoghi della cultura della nostra città, possiamo scegliere se verificare, se capire dove possiamo mangiare oppure dove possiamo dormire e a breve anche i luoghi dove si possono far shopping e dove si possono trovare articoli della nostra tradizione. Ancora nel menu abbiamo ad esempio il calendario completo degli eventi che si tengono nella città, quindi non soltanto gli eventi a data corta come nel menu iniziale, ma qui possiamo avere proprio tutto il calendario eventi in digitale e scoprire anche cosa si tiene nel periodo estivo. Ancora abbiamo una sezione itinerari che ci fa scoprire anche la nostra città con una visione diversa, ad esempio se entriamo nell'itinerario Fanno Romana ci racconta, ci dà un breve spaccato della nostra storia romana, ma ci fa anche vedere quali sono i luoghi dell'itinerario che ci raccontano bene la Fanno Romana. Ancora, sempre entrando nel menu, una parte contattaci che è un nostro progetto Collego, uno IAT digitale dove una persona è disponibile tutti i giorni, sette giorni su sette dalle 9 alle 23 per avere qualsiasi informazione sulla nostra città. Ecco, un'applicazione interessante, una base di partenza interessante che prossimamente verrà ampliata con tutta una serie di contenuti, contenuti multimediali che ci daranno la possibilità di visitare meglio e bene Fanno e le sue bellezze. Quindi l'invito è quello di scaricare tutti l'applicazione e ovviamente di farla conoscere ai visitatori che arriveranno nella nostra città. La Regione Marche, questa mattina, ha presentato Easy PNRR Marche, il portale per il monitoraggio delle risorse che impattano sul territorio e per la semplificazione e la condivisione di informazioni relative al PNRR. Con questo portale, ha spiegato il Presidente Francesco Quaroli, vogliamo coinvolgere maggiormente tutti i cittadini, gli enti locali e le imprese nella conoscenza delle opportunità che il Piano Nazionale può dare alle Marche. Al momento i progetti già attivi nella nostra Regione, ha detto il Presidente, sono 5.092. Adribus invece ha attivato l'account ufficiale su WhatsApp per rendere più semplice e tempestiva l'informazione. Si tratta di un nuovo servizio che ha lo scopo di trasmettere notizie, deviazioni, promozione e tutto quello che può essere utile ai passeggeri che utilizzano il trasporto pubblico. Per iscriversi al servizio è sufficiente avere attiva l'applicazione di WhatsApp e inserire tra i propri contatti il numero di telefono che vedete in questo cartello. L'azienda consiglia di memorizzare in rubrica e di registrare il numero sotto la voce Adribus e di inviare un messaggio con il testo Adribus Sì. I messaggi saranno poi inviati in modalità broadcast, quindi nessun cliente potrà vedere gli altri contatti iscritti, garantendo così la privacy. E torniamo a parlare delle polemiche sviluppate sui social in merito a Passaggi Festival, criticato per il prevalere dell'orientamento politico di sinistra. Al riguardo oggi è intervenuto il dirigente del liceo Nolfi Apolloni, Samuele Giombi, il quale ha sottolineato l'importanza di questa rassegna, anche per il mondo della scuola e per il liceo in particolare, da quest'anno formalmente scuola partner di Passaggi. Infatti ha spiegato il Preside la manifestazione dagli studenti in modo di collaborare in vari settori, ufficio stampa, fotografie e riprese video, social media e allestimenti fotografici. Si tratta di attività che spesso costituiscono per gli alunni anche una vera opportunità preziosa di orientamento verso scelte future, in campo professionale e di studio. Passaggi Festival rappresenta un valore per la nostra città e il nostro territorio, ha proseguito Giombi, tanto più che nel tempo la proposta culturale si è affermata in un senso molto aperto sul piano culturale, con la presenza di ospiti dalle diverse estrazioni, altrimenti la scuola, che vuole avere nel pluralismo culturale un suo punto di riferimento, non avrebbe partecipato e non parteciperebbe. Perciò, ha concluso il dirigente, ci auguriamo che il festival cresca e consolidi la sua presenza a fa. E adesso passiamo al lungo ponte del primo di maggio, dove Cristiana Guerra e Marco Lonigro hanno chiesto a fanesi e pesaresi dove trascorreranno queste festività. Sentiamo. Il primo maggio si avvicina, avete qualche programma in particolare? Sì, pensavamo di organizzare una scampagnata tutti insieme, noi e alcuni altri nostri amici. Chi va a sopra in Cielitoria. Siete venuti a Fano a passare il primo maggio, a trascorrere qualche giorno? Sì, siamo venuti a fare il weekend qua, abbiamo degli amici, siamo venuti a trovarli. Siamo venendo un po' il centro, abbiamo girato, siamo venuti al mare, per cambiare un po' aria. È la prima volta che venite? Sì, 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 è la prima volta, quindi vediamo un po', ci sembra una bella città. Le previsioni sono schifose, se si può dire, passatemi il termine, quindi sicuramente starò a casa. Con amici, in famiglia? In famiglia. Sì, forse andrò da lui. Ecco, lei giustamente dice, allora verrà a Milano. Esatto, se non sa cosa fare, viene su da noi a Milano, invece di scendere noi, vengono loro su a Milano. Ma lei è la prima volta che viene a Fano? Dal 1981. Ah, quindi da tanti anni. Conosco bene, esatto, ci troviamo bene, quindi veniamo sempre qua a fare i ponti, le vacanze, il Natale, quando capita siamo qua. Io vado al concerto del primo maggio a Roma, tu invece? No, non lo so ancora. Io decido tutto all'ultimo. Tutto da decidere, dipende anche dal tempo, forse dalle condizioni medie. Sì, sì, assolutamente. Penso che faremo un aggrigliato, qualcosa tra amici. Sì, oppure volevamo fare una scampagnata qui nelle campagne, oppure nelle montagne, dobbiamo ancora decidere in realtà, però comunque rimaniamo vicino a Fano. Io sono della provincia di Piacenza. E qua quindi trascorrerà qualche giorno a Fano, quindi? Sì, e devo dire che mi piace molto, è una bella cittadina. Sono appena arrivata da Pesaro, che mi dispiace, ma tanto di cappello a Fano. Da qualche parte in ristorante con la moto, però. E dove pensa di andare? Ma penso in montagna, verso Cagli, verso il Furo, da quelle parti lì. Cioè, io non mi muoverò. Non farò particolari viaggi, resterò qui a Fano. A ristorante con amici? No, no, no. Nel caso ci vado da sola. Che mi piaceva andare molto... Ci ho messo del tempo, però vado anche da sola al ristorante, che non c'è problema. Ma stavamo pensando di fare una grigliata tra amici, quindi casa di amici, così. Dopo la grigliata, una passeggiata al mare, se il tempo lo permette? Allora, noi siamo un pochino più da montagna-collina, quindi ci sposteremo verso le colline, quindi l'entraterra. Famiglia e amici, diciamo che ci spartiamo un po' così. Al giorno andrò al ristorante? No, sarò a casa. Poi pomeriggio? E penso una grigliata in campeggio. Andremo a fare una scampagnata, così, nella natura, e dopo ci metteremo lì con le tende, faremo il bagno nel fiume, così, queste cose qui. Dove quindi al furlo? Eh, boh, penso da qualche parte, in un posto sperduto, così. Comunque fuori da Fano. Sì, sì. Sì, sicuramente andrò a mangiare fuori, però ancora non so dove, anche perché ho messo brutto tempo, quindi... In arrivo in La Ponte del primo maggio scopriamo insieme il programma dei pesaresi. Ah, io con la bimba a casa. Non lo so ancora, ho due inviti, ma non sono decisa per andare in un ristorante o in una casa, non lo so. Non lo sappiamo. Probabilmente in famiglia una grigliata. Di te, niente? No, rimaniamo in zona. Lavoro. Basta. Sì. Sono a lavorare. Ah, guardi, dipende dal tempo. Ho tre miei piccoli, per cui se il tempo è buolo, sicuramente mare. Noi siamo gente da mare. Qui a Pesaco? Sì, qui a Pesaco. Ci sta andare tipo in un campeggio, queste cose qui sarebbe figo, però non lo sappiamo ancora. Lavoro domenica notte, quindi probabilmente dormirò. Alto di te. No, penso che faremmo una grigliata con gli amici, magari nei monti qua, verso il furlo, la gola del furlo. Lo passerò in campagna con i miei amici, con tanta buona musica e una bella grigliata, insomma. Ah, stiamo a letto tutto il giorno. Abbiamo un locale, quindi lavoriamo. Sospiro nel bel tempo e quindi semmai un giro qui intorno nell'entroterra marchigiano. In realtà niente, perché penso di studiare, visto che ho la tesi. Penso di essere a Milano, non sarò qua, perché non vivo più a Pesaro, quindi in realtà sarò fuori. No, non abbiamo tanti programmi. Lei? Anche io ancora zero programmi, penso che organizzeremo all'ultimo. Farò una grigliata con gli amici e mi divertirò un po' come fanno tutti. Dove? A Pesaro. Andiamo a casa del nostro amico che è alla casa. Ci divertiamo birretta, carne, tutto quanto. Primo maggio, nuova occasione per visitare anche i luoghi del circuito museale di Mondolfo. Saranno infatti aperti ad ingresso gratuito nel costituito orario delle giornate festive 10-13-15-18. Sarà possibile ammirare la macchina oraria pontifica nelle sale dei musei civici al complesso monumentale di Sant'Agostino fra gli oggetti e le memorie da scoprire passeggiando per le vie della città fortificata sul mare, giungendo sino al belvedere del castello. Non distante il bastione di Sant'Anna con la possibilità di accedere gratuitamente ai sotterranei del forte per una prima conoscenza con quel genio del rinascimento che fu Francesco di Giorgio Martini raccontato nelle sale del bastione con l'iniziativa Terre Martignane che coinvolge comuni di varie regioni italiane. A Senigallia invece la Pinacoteca apre la propria galleria sabato, domenica e lunedì con orario 9-12-16-19. Sarà l'occasione per andare alla scoperta di opere d'arte provenienti dall'intero territorio diocesano. Un percorso non solo dedicato alla pittura ma anche alle altre arti con preziosi argenterie, paramenti sacri e tanto altro ancora. L'accesso è gratuito. Ed ora torniamo a Fano dove l'assessorato alla cultura e i beni culturali ha organizzato per domani al Museo del Palazzo Malatestiano un incontro pensato per vivere il museo come spazio educativo, aperto e inclusivo per i bambini nella fascia da 0 a 3 anni. Nel pomeriggio invece torna l'appuntamento con paesaggi sonori. Tutti i dettagli nell'intervista realizzata a Cora Fattori. Il 22 aprile, il giorno della giornata della terra, si è aperta una nuova iniziativa che si chiama Paesaggi Sonori ed è un nuovo modo per capire come è fatto il paesaggio. Solitamente noi il paesaggio lo vediamo, lo descriviamo, lo percepiamo con la vista, questa volta lo facciamo attraverso il suono, attraverso i rumori e le nostre orecchie. Ringraziamo l'Abo Scuola di Laboratorio di Musica, Aras Edizioni che è una casa editrice indipendente, il Cinema Politeama che ospita questa rassegna e l'Ensenente Nazionale Sordi. Il Comune di Fano è contento di patrocinare questo evento e che è iniziato il 22, adesso il 29 abbiamo una nuova iniziativa, un nuovo appuntamento a cui tengo tantissimo perché parla di vibrazioni e fior di sensi, come ascoltano gli pudenti, come ascoltano i sordi, perché voi dovete capire che sentire e ascoltare sono due cose molto differenti. I sordi amano molto la musica e la ascoltano, come? Venite a scoprirlo sabato alle ore 11 al Cinema Politeama, metteremo tutti i tappi per le orecchie, avremo un palloncino gonfio e capiremo come si può ascoltare diversamente. È un modo per conoscere qualcosa di nuovo e capire che esiste un paesaggio che si può, oltre che vedere, anche ascoltare. Sabato 29 aprile è un bel sabato per la cultura. Alle 4 e mezza del pomeriggio invitiamo tutte le famiglie con bambini tra gli 0 e i 3 anni, se ne hanno 4 va bene lo stesso, ad andare al Museo del Palazzo Malatestiano. Il Palazzo Malatestiano ospita il Museo Civico e il Museo Archeologico. Cosa ci sarà? Ci sarà un'educazione museale per la prima infanzia. Stiamo lavorando affinché il museo diventi un luogo vivo, attivo e un museo di tutti. A giugno presenteremo il progetto per il nuovo museo. Nel frattempo cerchiamo di fare laboratori, di coinvolgere la città. Abbiamo iniziato con risuonano i musei, poi ci sarà a seguire la notte dei musei, ma anche questa iniziativa per i bambini dagli 0 ai 3 anni è molto importante, perché noi pensiamo che siano troppo piccoli, ma non è così. Saranno coinvolti i bambini e le loro famiglie in un percorso interessante di gioco e di conoscenza. Quindi alle 4 e mezza di sabato 29 vi aspettiamo. Potrete divertirvi ed imparare anche diverse cosine. E questa era la nostra ultima notizia. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato agli amici del Paese dei Balocchi, che hanno consegnato il ricavato del progetto meravigliosa alla Caritas di Senigallia e al Centro per l'Infanzia, l'Allegra Brigata. Per l'occasione erano presenti Toni Bungaro e Marco Pacassoni, che insieme agli alunni della scuola primaria di Balocchi hanno scritto e cantato il brano. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV.